Decreto salvabanche, popolo tradito e poi è ancora no all'arbitrato, sì ai rimborsi per tutti. Prosegue la protesta dei risparmiatori azzerati dal decreto salvabanche del 22 novembre scorso. La protesta questa volta passa attraverso gli striscioni posti nelle arterie principali della città di Arezzo, sicuramente quelle più trafficate. Uno, come potete vedere, è nella rotatoria di via Sette Ponti, uno a Pontachiani, uno in zona S-Lunga, uno in via Trasimeno ed uno in via Tortaglia. C'è ancora attesa nei risparmiatori che stanno aspettando ormai da cinque mesi i decreti sui rimborsi che sarebbero dovuti arrivare lunedì, ma c'è stato ancora uno slittamento.